Ma acciuffa al novantesimo la vittoria sul Monza, decide El Sharawi, Briazzoli in dieci per tutto il secondo tempo, decisivo Aguar su Belotti, il Monza rimane in dieci per la doppia munizione di D'Ambrosio al quarantaduesimo, dopo il fallo di Belotti lasciando in dieci la propria squadra, la Roma cerca il Four Fights per acciuffare la giocata che servirebbe non arrivare al settantatreesimo, Lukaku scheggia l'incrocio al nonantunesimo, Vignato sfiora il colpaccio, al novantesimo il gol liberatorio di El Sharawi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!